Sono con Davide nella più grande regia mobile in 4K d'Europa e lui ci spiega che cos'è questa meraviglia. Siamo in Barcellona in un'esposizione di MediaProch, una compagnia che facciamo la produzione della partita del calcio della Liga Espagnola. Questa è una regia, un camion mobile, dove facciamo la regia con tutte le camere, tutti i replays, tutti i sistemi di audio. Qui possiamo lavorare con 18, 20, 22 camere e normalmente facciamo la regia della partita del Barça o del Madrid.